L'autonomia va conquistata tutta, va governata e va fatta crescere, va fatta produrre. L'autonomia non sono gli articoli di uno statuto in gran parte sostanzialmente poco attuati. L'autonomia soprattutto ha la consapevolezza di una libertà, di una capacità di autogoverno, di una indipendenza nel pensiero e nell'azione che purtroppo noi abbiamo forse conquistato e poi ci siamo lasciati andare, abbiamo lasciato fare agli altri e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Raffinerie piuttosto che grandi fabbriche che se ne vanno o altrove depositano i loro tributi e i frutti del loro lavoro e noi con livelli di disoccupazione, con grandi difficoltà, con devastazione ambientale, con malattie e con tantissime risorse che invece lasciamo inutilizzate da quella dei beni culturali e quella dei beni ambientali alla nostra produzione agricola che va riorganizzata, non si tratta di produrre di più, va riorganizzata anche attraverso una politica diversa, soprattutto attraverso una politica diversa che faccia sì che non siamo più anche noi un po' coloni a mercato di consumo fatto di uomini e donne che magari percepiscono uno stipendio o una pensione o un sussidio ma che sanno produrre, creare lavoro, darlo ai propri figli che non devono essere costretti ad emigrare. Per far questo ci vuole la consapevolezza di una nostra autonomia, di pensiero, di azione politica, di governo delle nostre cose, una grande forza politica dell'autonomia perché vedete un presidente di regione, un ministro, un uomo politico che deve la sua carriera a un partito nazionale non potrà far valere, anche quando questo dovesse voler dire conflitto, le proprie ragioni rispetto ai partiti nazionali e ai governi nazionali. Invece uomini di una forza politica del Mezzogiorno e della Sicilia che hanno la consapevolezza della loro libertà e l'orgoglio dell'essere medidionali e siciliani non condizionato ai diktat o alle condizioni o alle clausole poste dai partiti nazionali o dai governi nazionali, allora sì che nel contesto di una Italia che cominci finalmente ad unirsi perché mai come oggi purtroppo è divisa in due Italie, quella del nord e quella del sud potrà far produrre quell'autonomia e generare sviluppo e pace anche nel Mediterraneo. Grazie. Grazie.